L'ospedale di Vicenza apre una nuova strada nel trattamento dei tumori maligni al cervello con una metodica innovativa che non ha precedenti in Italia. Il nuovo sistema si chiama Photon Radiation System ed è stato applicato per la prima volta su di un paziente affetto da metastasi cerebrale, nei confronti del quale si è proceduto all'irradiazione diretta della zona interessata già nel corso dell'intervento chirurgico. Per le neoplasie al cervello si tratta di una metodica particolarmente significativa e non solo per la maggiore efficacia che può avere un trattamento radioterapico finalizzato a colpire dall'interno solo la parte colpita dal cancro. I tumori maligni al cervello infatti vengono in genere trattati con radioterapie dall'esterno e in caso di recidiva non è possibile procedere a nuovi cicli di radiazioni. Non almeno fino ad oggi, visto che il Photon Radiation System è l'unica metodica praticabile proprio per la sua applicazione in sede chirurgica. Non è che questo guarisce i tumori, però fa parte di quel progetto di aggiungere sempre nuove cose per cercare di prolungare in maniera sufficiente, in maniera per il paziente che possa avere una vita autonoma il più a lungo possibile. La nuova metodica che nasce dall'utilizzo di un prototipo già in disponibilità del San Bortole e chi ha conosciuto questa innovativa applicazione grazie ad un finanziamento di 150.000 euro della Fondazione Cari Verona non potrebbe risultare così efficace senza una visione multidisciplinare dei tumori al cervello. Una visione che mette insieme neurochirurgia, radioterapia e fisica sanitaria e che consentirà ora ai pazienti affetti da metastasi o da recidive di tumori cerebrali, una sessantina, solo quelli seguiti ogni anno al San Bortolo, di affrontare la vita con maggiore fiducia.